Non è come Paganini che, stando al detto popolare, non concedeva il bis. Il Covid invece può ripetersi. I casi di reinfezione sono dovuti però soprattutto alla variante Omicron. Va detto anche che chi si ricontagia è generalmente asintomatico o presenta sintomi molto lievi, soprattutto se vaccinato. E allora, proprio per aumentare le possibilità di immunizzarsi, a Pescara mercoledì aprirà i battenti il nuovo centro vaccinale, il secondo della città, all'interno del Palazzo Fuxas di via Alessandro Volta. Particolare attenzione sarà riservata alla vaccinazione dei più piccoli. Che sia fondamentale vaccinarli lo dice anche il dottor Massimo Calisi, medico di medicina generale a Pescara e segretario regionale della FISMU, la Federazione Italiana Sindacale dei Medici Uniti. Anche i bambini sicuramente il vaccino è indicato dai cinque anni in su, perché anche loro sono colpiti da forme, alcune volte addirittura con ricovero. A poca distanza dalla guarigione io personalmente non ho visto reinfezioni, ho visto alcuni pazienti che si sono reinfettati, ma dopo molto molto tempo. E comunque con la vaccinazione le forme sono sempre molto leggere e anche i contatti, per quanto riguarda un paziente che ha un contatto ed è vaccinato, ha la possibilità solo dell'autosorveglianza e non va in quarantena. Quindi questo perché chi è vaccinato sicuramente ha possibilità molto bassa di contagiare, molto bassa di ammalarsi in forme più gravi. A voi spettano anche tanti compiti che sono diversi da quelli della visita al paziente, comunicare l'avvenuta guarigione. Ma lei dice che i sistemi non si parlano, per cui magari noi possiamo fare un certificato di ammenuta guarigione, che non significa però che hai di nuovo il Green Pass e possono passare giorni. Si è inceppato appunto la mancata comunicazione dei vari sistemi, per cui il lavoro si è raddoppiato e ha molto aumentato. Il certificato cosiddetto di guarigione, che in realtà il suo nome è una comunicazione di fine isolamento, non porta automaticamente alla produzione del nuovo Green Pass, ma bisogna andare in un altro sistema e chiedere in base alla data del tampone positivo e del tampone negativo. E di qui la difficoltà nel gestire queste numerose incompense e tra l'altro richieste che ci vengono anche di sabato, di domenica, di sera. Il telefono, come vedete, squilla in continuazione. Il paziente non è che può aspettare la risposta dopo 5-6 giorni. Avete chiesto un incontro anche con l'assessore Perì? Sì, abbiamo chiesto un incontro urgente perché vogliamo concertare le soluzioni chiedendo il rafforzamento dei sistemi territoriali e soprattutto la presenza di una piattaforma che comunichi in tutta la regione.